Per quello che mi riguarda, i politici come altre categorie professionali possono tranquillamente aspettare il loro turno e arrivare alla fine, come farò io se sarò l'ultimo fra i 60 milioni di italiani a essere vaccinato, per me non sarà alcun tipo di problema. Parlato stamattina col commissario Figliuolo, persona estremamente competente e trasparente, a differenza di qualcun altro, per arrivare ai 500 mila vaccini quotidiani a partire dai più fragili e fra i più fragili i disabili e i loro parenti e coloro che li accudiscono. Ripeto, in questo momento l'importante è comprare vaccini all'estero, visto che non arrivano da Bruxelles, produrli in Italia e iniziare a produrli in Italia, incrementare le terapie domiciliari e fare un piano vaccinale serio e Figliuolo sta lavorando con la grande distribuzione con gli odontoiatri, con i medici sportivi, con le scuole per fare in fretta. Io spero che occorra tenere duro e stringere i denti ancora per queste settimane di marzo e poi dopo la Pasqua ci sia la resurrezione, la rinascita, la ripartenza, però devo dire che in queste poche settimane il governo Draghi ha sicuramente cambiato il passo rispetto ai governi precedenti.